Musica Torna a far discutere lo strumento urbanistico che definisce gli obiettivi generali per l'assetto e la tutela del territorio Tutti termini molto tecnici ma dei quali dipendono scelte strategiche di grande rilevanza in tema di infrastrutture, opere di sviluppo urbano e di tutto ciò che ne consegue Ad accendere il dibattito è l'Automobile Club Bergamo guidato dall'ex presidente della provincia Valerio Bettoni Che all'attuale presidente Gianfranco Gafforelli ha presentato un documento contenente una serie di osservazioni e proposte Laci è un organismo che rappresenta 24 mila persone, è il sindacato degli automobilisti e l'automobile che piaccia o meno è la realtà che coinvolge lavoro, turismo, cultura, mobilità Non c'è settore della società dove l'automobile non sia presente, c'è una parte importante Allora il discorso è quello di costruire un disegno che non è solo quello dell'automobile ma che passa attraverso le varie sfaccettature intende una società Le indicazioni contenute nella nuova proposta sono troppo generiche e non vincolanti, commenta l'architetto Felice Sonzogni Presidente della commissione mobilità ACI ed ex assessore provinciale alle infrastrutture Se si rimane nell'incertezza il piano territoriale rischia di essere inutile ed inefficace Perché non è più il punto di riferimento utile a chi deve programmare il futuro, agli operatori, agli investitori e alle imprese Non siamo una realtà politica ma siamo una realtà che ragiona i suoi problemi e che vuole aiutare questo nostro territorio A dare risposte serie ai problemi che ci toccano tutti Il momento in cui ci sono a disposizione anche delle importanti risorse a livello europeo, almeno ci auguriamo, che arrivino E per poterle spendere bisogna avere delle idee estremamente chiare Questo è l'obiettivo e su questa strada noi cammineremo e camminiamo Ho la fortuna di avere un ACI con del personale estremamente competente e simpatico La gente che viene, visto che conosco tanta gente, la gente che viene in ACI ci dice Devo darvi atto che avete gente di grande professionalità Lo so, abbiamo una grande realtà, grande professionalità Il ACI chiede alla provincia di confermare e tutelare con indicazioni prescrittive e vincolanti Tutti i tracciati delle infrastrutture di mobilità e trasporti contenuti nel piano vigente A garanzia di una futura possibile realizzazione